Ecco, scusate se ritorno sull'argomento, però ho visto dai commenti che molti non hanno capito perfettamente cosa ieri ho detto in aula, un po' perché, per partito preso, chiaramente qualcuno non vuole capire, un po' perché effettivamente la tematica è particolarmente complicata. Cercherò di dirlo in maniera estremamente semplice, anche perché è la posizione della Lega, fra l'altro, è ovvio. Allora, facciamo un piccolo risunto. Ieri eravamo chiamati tutti l'Europarlamento a votare il testo definitivo del regolamento del recovery, anzi, per l'esattezza, se lo vogliamo chiamare col proprio nome, del Recovery and Resilience Facility, così come è il giusto nome. Il regolamento, cioè praticamente quel tipo di uso e monotensione, chiamiamolo così, voglio parlare in maniera proprio molto semplice, che i paesi che intendono utilizzare questi fondi europei debbono sottoscrivere, cioè se tu li vuoi utilizzare devi sottostare a questo tipo di regole, in maniera semplice. Qual è stata la posizione della Lega? Guardate che questo testo è stato, diciamo così, generato da mesi e mesi, non è che una mattina si sono svegliati. Ebbene, la posizione della Lega è stata quella di dire, sì, ma attenzione, perché dentro questo regolamento ci sono delle condizionalità che non vanno bene, ma non solo a noi, ma proprio per la situazione in cui i paesi sono caduti dopo lo scoppio della pandemia. E quali sono? Ve lo dico, vedete? Io ve lo dico tecnico, poi ve lo traduco chiaramente, perché logicamente il discorso è stato molto tecnico, perché richiedeva di essere tecnico. Il problema di fondo del regolamento RRF, cioè del Recovery and Resilience Facility, è che in esse sia incorporato il rispetto delle raccomandazioni del Country Report degli anni 2019-2020, quindi precedenti al Covid-19, e questo cristallizza i criteri di calcolo dell'output gap contenuti nella CAM, Commonly Agreed Methodology, la quale invece risulta essere oggetto di critiche da parte di molti paesi membri. Seguendo questo schema, il patto di stabilità e crisi da sospeso si riproporrebbe in tutto il suo vigore prociclico, tradotto proprio in italiano semplice. Guardate che se noi stiamo dietro a queste condizionalità, che si rifanno a delle raccomandazioni che sono state concepite prima dallo scoppio della pandemia, non sono buone, non ci vanno bene, assolutamente, allora o si vanno a modificare queste raccomandazioni, questi vincoli, oppure va male per tutti, quindi avere aperto questo dibattito per noi è stato un punto fondamentale, al punto che noi ci siamo in genere nelle votazioni precedenti al voto finale nel scorso mese, astenuti. Questo ha determinato, non solo una grande confusione perché passando tutte le televisioni, a voi della lega avete dato no, noi ci siamo astenuti perché abbiamo sollevato questi problemi nell'interesse del paese, non abbiamo detto sempre sì con i paraocchi come invece hanno fatto gli altri. Attenzione, in particolare il PD, guarda caso. Poi noi abbiamo sollevato anche un enorme problema perché vedete ci sono anche delle condizionalità nel piano che riguardano la tipologia degli investimenti che si possono fare e sappiamo che c'è una percentuale molto grossa nell'ambito dei investimenti green e investimenti sul digitale. Nessuno, per carità, contesta il fatto che sia necessario svolta ecologica, svolta digitale, nessuno, per carità, siamo i primi a dire giusto, va benissimo. Il problema è che però purtroppo, vista l'emergenza dovuta alla pandemia, sarà molto difficile rispettarli questi vincoli. E che cosa succede? Che se tu prendi questi soldi e poi la Commissione dice sì ma tu non li hai utilizzati, come ti ho detto io, te li devi pagare da soli, cioè non c'è il prestito. Allora che significa? Che tu devi fare un consulimento fiscale di quei debiti che hai contratto, vuol dire imparare a voi, devi mettere più tassi. Dopodiché io ho sollevato un grosso problema. Vi ricordate quando si è iniziato a dire, ma perché non cancellate una parte di debito, almeno quello fatto per la pandemia? Addirittura Sassoli, presidente del Parlamento Europeo in quota PD, l'ha sollevato, dicendo una cosa che praticamente nei Corri 2 si diceva tranquillamente. La Lagarda è intervenuta l'altro giorno, proprio lunedì, cioè il giorno prima del mio intervento di ieri del 9 febbraio, dicendo che per carità di Dio è vietato dai trattati il fatto di dover cancellare i debiti, non ce lo consente perché significa aiutare uno Stato, eccetera. Premesso che non sono d'accordo su questo, perché se si adotta il criterio della capital key, cioè del peso che ciascun paese per mezzo della propria banca centrale ha nel capitale della BCE, come in genere viene rispettato i programmi QE e PEP, cioè il quantitese pandemico, si rispettano le proporzioni, cioè quello che viene cancellato per Malta è diverso rispetto a quello che è cancellato per la Germania, ovviamente, perché c'è appunto questo criterio capital key, considerate che l'Italia ha intorno 13% del capitale, quindi come gli acquisti vengono fatti in funzione di quel peso, anche la cancellazione potrebbe avvenire con lo stesso criterio, però Lagarda ha detto di no. Allora io sollevo davanti al problema. Ho detto bene, se tu dici che i trattati, dico non si può cancellare, di fatto puoi ottenere esattamente la stessa cosa, rendendo di fatto perpetui, cioè per sempre, dei titoli, cioè rinnovo perpetuo per sempre, questo non lo vieta i trattati, naturalmente sempre col criterio della capital key. D'altronde ho richiamato addirittura Draghi, che quando l'altranno al meeting di Rimini disse ah, bisogna fare distinzione fra debito buono e debito cattivo. Il fatto che sia stato contratto un debito adesso per contrastare la pandemia, io lo considero un debito buono, buonissimo, perché serve veramente all'economia reale. Quindi perché quella porzione, sempre tenendo conto del criterio della capital key, quindi ognuno per la sua quota, non viene praticamente congelato, si ne die per sempre e questo sarebbe indubbiamente un'ottima buona cosa. E poi ho concluso dicendo, guardate che è solo una questione esclusivamente politica, non di problematica tecnica, perché tecnicamente si risolve immediatamente qualsiasi cosa, è una questione di volontà politica che purtroppo non c'è, però saremo costretti un giorno di corsa a farlo. Guardate, lo stesso motivo per il quale l'altro anno, a marzo, allo scoppio della pandemia, la Commissione ha sospeso il patto di stabilità, eppure sarebbe stata considerata un'eresia fino a qualche mese prima, eppure c'è stato un fatto purtroppo tragico come la pandemia che ha consentito di adottarla immediatamente. E guardate caso, è una cosa che la Lega ha sempre detto, cioè guardate che il patto di stabilità va completamente rivisto. Alla fine del mio discorso ho detto, guardate che queste regole, a cui noi siamo ancora oggi soggetti, sono state concevite 30 anni fa. Nel frattempo è cambiato il mondo, ma è cambiato mille volte il mondo, ma non vi rendete conto? Cioè, se non saremo in grado di cambiarle, anche profondamente, viene giù tutto, casca tutto. Ecco qui adesso mi riaccordo sul fatto che c'è qualche bontempone, che invece di fare il giornalista fa il giornalaio, e diceva, ah, di nanti si è mangiato tutto. No, non mi sono rimangiato niente, anzi, da questo qui ne sono ancora più convinto. Guardate bene, ascoltate queste parole. Qui se non cambia, casca tutto, completamente tutto. E non certo perché sarà qualche paese che vorrà uscire o non uscire, ma perché casca come i soufflé su se stesso. Quindi, come estrema razio, è quanto mai più opportuno avere a disposizione un piano che consenta un ritorno alla propria sovranità monetaria fatto bene. Sta lì, fermo, sempre pronto. È come avere un esercito, perché nessuno si augura una guerra, però è giusto che ci sia, perché se succede per colpa magari di qualcun altro, è necessario averlo, come è necessario avere gli estintori dentro un ufficio o le scialuppe di salvataggio su una barca. Purtroppo, questo viene sempre utilizzato contro, no? Ah, dice, Rinaldi ha detto che il piano B era solo una cosa accademica. Certo, dove andavamo fare il bar, dove andavamo andare nel bagno qua pubblico a farlo. È chiaro, come tutti quanti gli altri paesi, anzi, solo l'Italia era rimasta che a livello accademico non aveva fatto assolutamente nulla perché era considerato un'eresia. Io rivendico questo con forza e ancora per una volta vi dico che come estrema razio è quanto mai un'opzione sul tavolo. Quindi, se non ci sarà la possibilità di cambiare in maniera intelligente, proficua e soprattutto negli interessi di tutti, non solo di qualcuno, è inevitabile che prima o dopo si scrivono tutto. Quindi, questi signori che scrivono, io capisco che... Ma intanto quanto vendono? 3.000 copie? Ma neanche. Poi ci rendiamo conto il livello del giornalismo italiano, che ti estrapolano, ti tolgono le parole dalla bocca secondo quello che gli fa comodo perché fa molto fastidio che ci sia stata gente che queste cose le sta dicendo veramente da tanto, tanto, tanto. Adesso ci si sbatte la testa contro, si rendono conto che queste regole europee andavano cambiate anche da tanto tempo. Probabilmente avremmo affrontato la pandemia in maniera diversa economicamente parlando, avendo un supporto superiore. Non si è voluto fare e queste sono le conseguenze. Poi si attacca a chi l'aveva detto prima. Lascio, poi vedremo chi avrà ragione. Lasciamoli sfocare. Anzi, mi meraviglio che ci siano molti che forse hanno dei complessi di inferiorità che si scatenano contro, no? Ah, tu qua, là. Lasciamoli perdere, poveracci. Non si rendono neanche conto di quello che dicono. La situazione è quanto mai brutta. Vorrei solo ribadire una cosa perché nei commenti ha grazie a conto e 209 miliardi. Allora, innanzitutto, non ci hanno dato una lira nel programma del recovery. Attenzione, non mi risulta che sia stata una lira come una lira ancora nessuno nel programma del recovery. Il fatto che l'Italia abbia sulla carta a disposizione quei famosi 209 è che l'Italia è stata considerata, e questa volta ha ragione, come la più disastrata. Quindi anche se ci fosse stato chiunque gli avrebbe dato questa cifra perché la distribuzione era in funzione, ecco questo è importante, era in funzione dello stato di salute dell'economia. Siccome noi stavamo quelli messi peggio, ci hanno dato di più. Ma sulla carta, perché un conto è sulla carta, un conto poi dopo riuscire a utilizzarli in maniera proficua, chiaramente, perché poi bisogna restituirglieli. Quindi stiamo attenti perché non è tutto oro quello che luccica, anzi, magari fosse bronzo. Mi accontenterei. Grazie.